Ed ecco il terzo, il terzo dove c'è posto è il quattro dei Mutovini, un altro benelli mini, appena metto su la bobbina da l'ansi, sta fumando perché è da questo lo dico, quando girare, questo qua è raffetto da chissà quanti anni, senti come gira bene, fumetto da un po' di nuovo, ed è il numero tre. La bobbina è lì, ovviamente, è il posto che ho fatto vicino se ho arrangiato i buchi.